Buongiorno a tutti, ho il piacere di presentarvi l'inizio dell'attività di conferenze di Vercelli Viva per l'anno appena iniziato. Infatti già giovedì 25 gennaio alla sala del piccolo studio nel Chiostro di Sant'Andrea, Sergio Gilardino, il professore e linguista già conosciuto da molti a Vercelli ci intratterrà sulla poesia in piemontese di Vittoria Rollè, presentando un ricco volume che è stato pubblicato con la raccolta di tutte le poesie di questa importante scrittrice. Il volume sarà a disposizione di tutti gli intervenuti a offerta libera. È una conferenza molto interessante perché aprirà una finestra sul patrimonio poetico in lingua piemontese che risale a molti secoli addietro e continua a produrre dei frutti di grande valore e significato. Grazie.